devo prendere la mia prima scarpa adidas al carbonio prendo le adios pro 3 o le takumi sen 10 e perché no la versione precedente takumi sen 9 se correte le maratone prendete sicuramente le adios pro 3 che vi consentono di correre davvero velocemente hanno una economia di corsa pazzesca forse la migliore del mercato e soprattutto sono molto durevoli e quindi vi consentono di correre anche gli allenamenti lunghi e intensi per tantissimo tempo se siete più leggeri utilizzate le takumi sen 10 che hanno 6 mm di altezza al suolo in meno quindi meno ciccia sia nel tallone sia nell'avampiede ma al tempo stesso se correte solo 10 15 o fino alla mezza maratona questa scarpa potrebbe essere una scelta vincente paradossalmente il modello 9 è meno aggressivo e quindi si piega nell'avampiede questa cosa potrebbe consentire a chi cercasse una scarpa con la piastra di correre in maniera piacevole ma senza essere davvero troppo aggressiva voi nel frattempo sei strong e keep running le scarpe sono solo però uno strumento ciao alla prossima